Eccomi qua, ciao Clarissa, come vedi sono qui a Moralosso per cantarti una canzone. L'italiano! Buon divertimento! Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con una chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Perché ne sono fiero. Io faccio una proposta, visto che è una canzone che conosciamo qua ma in tutto il mondo. Rifarei ripartire Carlo Sortino, la cantiamo tutti insieme con Carlo Sortino. Ma che meraviglia, che idea meravigliosa. Perché è una canzone, chi non sa questa canzone. Ma come fanno a venirle queste idee? Eh, un'idea geniale, no ma, qualsiasi festa, se tu metti questa canzone la cantano tutti. E fa subito allegria e è subito festa. Sentiamo Carlo Sortino e vai, e così lo sentiamo e cantiamo tutti insieme. Voglio sentire, io fermate, questa canzone la sai. Eh sì sì. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Everybody now! Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, con la canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiere. Bravi, bravi tutti, grazie. Bene, bravo, grazie anche Carlo Sortino. Ah, fantastico, è l'unica persona che riesce a fare un sì bemolle con la cravatta. Meraviglioso, bravo, bravo, bravo. Beh, comunque cantare aiuta sempre, no? È un momento così di allegria.